Ciao amici d'Italiato Games, buongiorno di nuovo, una piccola breaking news e ringrazio tantissimo, tantissimo l'utente eri433 perché grazie a lui mi è arrivata questa segnalazione, senza di lui sicuramente non l'avrei visto. Un grazie davvero, ho questo nome dell'account ma non so bene come ti chiami ma ti ringrazio tantissimo per questa segnalazione, per questo piccolo scoop facciamo, dai piccolo 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 scoop. Allora cosa è successo? eri433 mi ha segnalato questo video apparso 16 ore fa sul canale ufficiale youtube della Roma, potete vederlo voi, basta che cercate a essere Roma e lo trovate Matthew Ryan, science for Roma, first interview as a giallorossi player, nuovo giocatore della Roma che è stato presentato. E allora cosa succede? io ve lo mando verso la fine del video, ve lo mando a velocità ridotta, scusate devo togliere l'audio, eccolo qui sta parlando, la storia del club non necessita spiegazioni, ecco che arriva, eccolo qui. Attenzione, guardate, guardate qui, EA Sport FC25, EA Sport FC25, EA Sport FC25, ragazzi più chiaro di così, mi sembra davvero difficile, eccolo qui, si vede ancora meglio, EA Sport FC25, EA Sport, insomma sembra davvero, eccolo, lo vedete ancora meglio lì, EA Sport FC25, qui, 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 vedete, qui c'è Adidas, S Roma, Toyota, EA Sport FC25, Ryan, eccetera, eccetera, e veramente l'ho fermato pure con questa inquadratura ravvicinata, zoomata, EA Sport FC25, EA Sport FC25 e EA Sport FC25. Quindi ragazzi, non dico ufficiale perché non è arrivato, ma è quasi ufficiale, la Roma è una nuova squadra partner di EA Sport FC, ora vedremo se la stessa sorte, la stessa situazione sarà anche per il Napoli e poi vedremo anche per il Monza se cambierà qualcosa, noi vi ricordo, vi abbiamo mostrato invece qualche tempo fa che Fiorentina e Bologna non sono più squadre partner, diventeranno squadre partner di football, diventeranno squadre partner di UFL, lo staremo a vedere, intanto però grazie ad ERI 433 abbiamo scoperto che al 99,99% la Roma è una nuova squadra partner e tornerà con licenza ufficiale e tutto quanto su EA Sport FC25. Non appena ci saranno altre novità sui football, sui sport FC, su tutti i videogiochi di calcio, le troverete qui sul canale YouTube di Italia Top Games. Grazie per l'attenzione, ciao!